Dal 24 al 26 novembre 2017, torna l'evento tanto atteso dai futuri sposi. La quarta edizione di Sicilia Sposi Expo vi aspetta nell'incantevole ex convento San Francesco, a Sciacca. Un affascinante viaggio tra eleganza, le novità e le tendenze moda. Pensate per i futuri sposi. Per informazioni 327 342 3097 Web siciliasposiexpo.com Sicilia Sposi Expo, dal 24 al 26 novembre 2017, con ingresso gratuito presso ex convento San Francesco, a Sciacca, località Tema. Sicilia Sposi Expo, la fiera per gli sposi che vogliono fare la differenza. Sicilia Sposi Expo Sicilia Sposi Sicilia Sposi Sicilia Sposi Sicilia Sposi